Ciao Giova. Come sei vestito Giacomo? English style. Mi dai un morso qua che ti dà un po' di carica per la corsa, un morso. Come sei? In forma? È abbastanza, sì. Bravo, così. Giacomo, l'hai mangiata tutta? Sì, era buona, i frutti di bosco andata giù che... Adesso deve correre col secco al culo. Chi si attesa al sangue con quella roba lì? No, tutto a posto, appena fatto gli esami. E lo zaino? Eh, lo zaino perché ho detto, metti che abbiamo un callo di zuccheri? Allora ho portato dei generi di conforto. Ho portato tre panini con la cotoletta, bresaola, caprino e rucola, prosciutto cotto, prosciutto crudo, mortadella, salame, carne in scatola, olio sott'olio. Olio sott'olio? E aceto sott'aceto. Tu devi andare a cagare, hai capito? Sott'olio.